Ancora senza esito le ricerche del 19enne Riccardo, appelli anche alle altre regioni italiane. Supermercato preso di mira dalle rapine, dalla titolare l'appello a maggiore sicurezza. Pesaro continua a investire sui mosaici del Duomo, arriva una sala multimediale per valorizzarli. Con Asisho, la storia dei motori sfila per le strade della capitale della cultura. WL, dopo il crollo di Forlì, la panchina viene affidata a Spiroleca. Ben ritrovati al nostro telegiornale. Oggi è giovedì 17 ottobre e apriamo questa edizione occupandoci del quinto giorno di ricerche senza esito di Riccardo Branchini, 19enne di Acqualagna, di cui non si hanno più notizie da domenica e le cui ultime tracce risalgono al ritrovamento dell'auto del ragazzo nei pressi della diga del furlo. Ricerche che continuano sul territorio sia valle che a monte, ma all'ipotesi di un insano gesto del ragazzo continua a non escludersi nemmeno la pista dell'allontanamento volontario. Tant'è che via social i genitori del ragazzo hanno invitato a condividere le foto di Riccardo anche nelle altre regioni italiane. Intanto i carabinieri hanno acquisito il computer di Riccardo per rintracciare elementi utili a comprenderne i recenti trascorsi. Ed ora passiamo alla cronaca di Pesaro perché nel quartiere di Pantano c'è un supermercato che è stato preso di mira dalle rapine. La titolare invoca maggiori presidi di sicurezza. Vediamo. Due furti subiti a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro nell'ultima settimana. Si aggiungono a tutta una serie di problematiche sulla sicurezza nella lista dell'elenco che arriva dal supermercato Tigre di Pantano. Da qui la volontà di denunciare il tutto non soltanto alle autorità ma anche pubblicamente per chiedere maggior sicurezza in un quartiere così popolato e centrale nel panorama pesarese. La titolare del market che racconta gli episodi subiti ora gira con lo spray al peperoncino non sentendosi più al sicuro così come altre persone nel passeggiare per quelle strade. Praticamente abbiamo visto questa persona che riempiva lo zainetto con le birre, abbiamo chiesto gentilmente di aprire la borsa alla cassa, l'ho superato le casse perché non ha pagato, lui si è rifiutato dopodiché si è data la fuga. Nel frattempo ho provato a fermare e lui con la forza mi ha trascinato fuori dal negozio per scappare perché io tenevo la borsa e lui mi trascinava. Dopo comunque è scappato via, sono intervenuti le forze dell'ordine, la polizia di Pesaro, la ringrazio tantissimo e comunque credo che è stata fermata questa persona, abbiamo fatto riscontro, riconoscimento e tutto quanto. Questo è il primo, diciamo quello che ha avuto la voce perché qua subiamo diverse volte da diverse persone, poi tantissimi magari non la vediamo neanche. Il secondo subito due giorni dopo arriva un ragazzo, fa il giro della corsia, prende i vini, mi vede anche che l'ho visto che l'ha preso i vini, va in cassa senza pagare. Chiedo gentilmente di tirare sulla maglietta perché l'aveva messo nella zona della pancia e lui continua a negare che non ha fatto nessun furto, faccio lasciare il vino e accompagno fuori dalla porta. Questo succede continuamente. L'appello della titolare va poi al comune di Pesaro nella speranza che si possa incrementare il controllo e garantire una maggior sicurezza nel quartiere, oltre che nel tratto stradale che interessa il negozio stesso. È una zona bellissima, ci sono tantissimi abitanti però a mio avviso c'è poca sicurezza, c'è molta delinquenza e comunque magari è una zona dove piace avere, magari alla sera così, però questa non vuol dire che devono venire a rubare il negozio. È una sconfitta, è una paura e ansia, ma non per me, anche per i dipendenti ma anche per i clienti, perché i clienti giorno dopo comunque venivano un po' con la paura in negozio dicendo ok c'è qualcuno dentro che dobbiamo preoccuparci perché anche loro entrando la spesa non si sentono insicuro dicendo ok se succede qualcosa, cosa succede, cioè noi siamo in rischio, in pericolo. Quindi io chiederei al comune se hanno modi e la possibilità magari di rinforzare la sicurezza della zona, magari più pattuglia, ogni tanto se passano a farci un saluto, agli offremmo anche il caffè poi volentieri, però che magari la sicurezza sia in prima lista. Le immagini che vi mostriamo ora invece si riferiscono ad un'auto che ha preso fuoco questa mattina in mezzo al traffico della rotatoria dell'Interquartieri che collega via Sandro Pertini con via Solferino. Attorno alle 10.30 sono divampate le fiamme da una Porsche con il conducente sceso subito dal veicolo per mettersi in salvo. Il rogo è stato sedato sul nascere dalla prontezza di alcuni passanti in transito che disponevano di estintori a bordo dei loro veicoli e che sono intervenuti ancora prima della definitiva messa in sicurezza dei vigili del fuoco. Ed ora cambiamo argomento e ci occupiamo di un luogo d'arte che in questo anno di Capitale della Cultura sta vivendo una delle maggiori campagne di valorizzazione. Parliamo dei mosaici del Duomo per i quali è pronto un nuovo progetto che ci viene illustrato dal sindaco Andrea Biancani. Nell'anno da Capitale della Cultura i mosaici del Duomo sono stati forse il sito culturale più attenzionato per un salto in avanti di valorizzazione come ribadito più volte anche nella stessa campagna elettorale di Andrea Biancani. Così dopo l'allargamento delle finestrature che grazie a Fondazione Scavolini ne consentono ora una visuale più ampia il comune interviene sui mosaici con un nuovo progetto che ne allarchi ulteriormente la fruizione. In questi giorni mi sono incontrato con l'arcivescovo, mi sono incontrato con la sovrintendenza e con le varie università che stanno operando gli studi e in qualche modo gli scavi per capire se era possibile o meno portare avanti il progetto per spostare il mosaico superiore in un altro sito. Devo dire che ci sono state diverse perplessità innanzitutto perché la sovrintendenza ha dichiarato che con le tecnologie attualmente esistenti difficilmente si riesce a spostare il mosaico senza rischiare di poterlo rovinare. A questo punto quindi insieme al vescovo insieme appunto alla sovrintendenza abbiamo deciso di proseguire almeno per i prossimi anni un progetto che deve portare sia ad aumentare quelli che sono gli spazi visivi cioè i vetri che sono calpestabili e quindi che possono rendere aumentare quella che è la visibilità del mosaico ma dall'altra parte come amministrazione comunale ci siamo presi l'impegno di fare un progetto multimediale realizzando una vera e propria stanza al di fuori rispetto al Duomo, stanza dove i turisti potranno andare, potranno godere, verificare tramite appunto un progetto multimediale quello che è sia la storia del Duomo sia la storia di tutti i mosaici ma soprattutto riusciranno a vedere la quella che potrebbe essere una vera e propria ricostruzione del mosaico almeno quello superiore con alcuni pezzi di quello inferiore quindi ritengo continuerò a come dire a lavorare in questa direzione ovviamente in collaborazione con la diogesi e la sovrintendenza perché riuscire a rendere più visibile il mosaico è veramente una grandissima opportunità di promozione culturale e turistica per tutto il nostro territorio. Da un luogo culturale antico passiamo ad uno più nuovo ovvero l'auditorium Scavolini che continua nella sua programmazione di convegni ma non di eventi sportivi a differenza di come era stato inizialmente programmato un tema che è stato dibattito nell'ultimo consiglio comunale. Convegni e convention sì, partite, gare o eventi sportivi invece no, almeno per il momento. A quasi otto mesi dalla sua inaugurazione l'auditorium Scavolini si sta incanalando in questo utilizzo che a detta della consigliera comunale Giulia Marchionni non rispetta la polifunzionale destinazione d'uso pensata inizialmente. Un tema sul quale la Marchionni ha voluto fare luce presentando in merito un'interrogazione in consiglio comunale. Ho chiesto se l'auditorium Scavolini almeno per come era stato venduto fin dall'inizio dell'opera sarebbe tornato ad essere un luogo per lo sport perché questi cittadini si stanno chiedendo. A un certo punto nelle varie conferenze stampa, nei comunicati sembrava che dovesse diventare un luogo in cui parche per terra avrebbero potuto giocare le squadre delle serie magari più elevate della città, basket, pallavolo, di questo si stava parlando. Poi in questi mesi siamo entrati più volte all'interno dell'auditorium e ci siamo resi conto che a terra c'è solo una distesa di cemento grezzo. Allora ho chiesto all'amministrazione comunale se qualcuno avesse mai acquistato questo parquet e se l'auditorium davvero potesse diventare un luogo per gli eventi sportivi e se gli eventi sportivi nel prossimo anno siano stati previsti. L'assessore ci ha risposto che nessun evento è previsto, che il parquet non è stato acquistato e quindi in questo momento quel luogo nonostante la grandissima difficoltà nel trovare spazi per lo sport in città non potrà essere fruito per fare manifestazioni sportive ma diventerà e rimarrà in questo momento luogo per convegni e per altre iniziative. Crediamo che sia davvero un problema a fronte dei 10 milioni di euro spesi per ristrutturarlo. Risposta in cui Pozzi ha rivendicato quanto il luogo sia già diventato centrale nel palisesto culturale della città nella quale mancava un impianto con quel tipo di capienza e struttura. Dal 29 di febbraio ad oggi tolti due mesi e mezzo durante i quali il ROF Rossino Opera Festival ha realizzato gli allestimenti, fatto le prove e realizzato gli spettacoli, tolti quei due mesi e mezzo le altre settimane, ogni settimana, ogni mese c'è stato un evento importante. L'ultimo in corso in questi giorni un convegno nazionale dell'ordine commercialisti, un concerto in occasione nazionale in occasione del 250esimo della Guardia di Finanza, prima ancora un altro evento dedicato a Battiato con la Benelli Week e così via anche nelle settimane precedenti, Kagami e tante altre iniziative. Oggi è inaugurato nel 2024, è diventata una struttura importante, contenitore culturale importante in più, ci auguria nel prossimi mesi, quindi in un futuro prossimo, potrà diventare un luogo che potrà ottemperare sia le esigenze sportive che le esigenze legate all'intrattenimento, cercando un'economicità nella gestione che possa alternare ad esempio in due semestri questi due tipi di progettualità e di utilizzi diversi. Ed ora torniamo a parlare del caso degli affidamenti diretti del Comune di Pesaro, oggetto di un'inchiesta della magistratura. Oggi è intervenuto sul tema il segretario del Partito Democratico, Giampiero Bellucci, replicando ad alcuni argomenti esposti dal parlamentare Antonio Baldelli ai nostri microfoni. In queste settimane c'è proprio un vero e proprio accanimento che sta superando un pochino il limite. Questo deputato ha presentato prima un atto ispettivo al Ministero della Cultura perché voleva chiarezza sui fondi del 150esimo Rossignano. È chiaro, dopo due anni che era deputato avrebbe potuto farlo anche prima se aveva questo desiderio. Dopodiché il Ministero ha sollecitato il rendiconto a luglio, ad agosto il Comune l'ha presentato, l'assessore Vimini ha spiegato in goccio comunale proprio martedì. Nel giro di un mese ha presentato un rendiconto che per stessa missione di Baldelli è completo di 800 pagine e lui stesso si riserva perché già avrebbe visto delle cose che a suo dire sono critiche o gridano allo scandalo. Io direi di fare basta perché qui si sta perdendo il senso del lavoro che è stato fatto da questa città su tutta la politica culturale a partire dal riconoscimento della città creativa sulla musica da parte dell'UNESCO, il riconoscimento UNESCO del 2017, poi dopodiché tutte le attività rossignane fatte nel 150esimo fino ad arrivare al riconoscimento della città capitale della cultura. Tutto questo lavoro ovviamente è fatto di tante scelte, di tanti progetti, di tante iniziative e mi sembra che è in corso un lavoro di screditamento di tutto questo lavoro, credo che renda poca giustizia all'impegno di tante persone. Ma ci siamo messi, parlo al plurale perché da parte nostra, da parte delle amministrazioni, da parte del sindaco, da parte della giunta, da parte della commissione Ate Garanzia c'è stata la massima disponibilità a creare tutta la possibilità di approfondire documenti, ascoltare persone e mettere in grado la magistratura di fare il suo lavoro. Direi di essere cauti e lo richiamo, come richiamo tutti quelli che fanno parte del PD, a un impegno sulla politica a favore delle città in cui siamo stati eletti, per il bene di tutte le città e essere costruttori di proposte e non speculatori su iniziative e su eventuali errori degli altri. Questa mattina in Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro del Lavoro Marina Calderone, si è svolta la cerimonia della consegna delle stelle al merito che danno il titolo di Maestro del Lavoro. Tra i 38 neomaestri premiati, anche due esponenti della provincia di Pesarurbino. Si tratta di Morena Pier Simoni di Mondolfo, dipendente della Master Quality di Fano, società di consulenza sulla sicurezza sul lavoro e di Carla Uguccioni di Pesaro, dipendente della UFG di Montegridolfo, azienda leader nella meccanica di precisione. E rimanendo in tema di onoreficenze pesaresi, Moreno Bordoni, segretario della CNA regionale, è stato invece nominato nuovo Cavaliere della Repubblica per le Marche. Un'onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in considerazione dei meriti acquisiti nel corso della sua carriera. La consegna del diploma di cavalierato avverrà in occasione di una apposita cerimonia istituzionale. Marche Multiservizi annuncia che a breve partiranno altri quattro importanti cantieri, grazie ai 20 milioni di euro di fondi PNRR ottenuti per realizzare una rete idrica più efficiente. Dopo i cantieri avviati a Pesaro, Frassoria e Via Ponchielli e quelli allestiti a Lunano e a San Lorenzo in campo, si stanno per realizzare altre 10 chilometri di rete idrica fra i territori di Gabice Mare, Terre Roveresche, Cagli e Monte Calvo in Foglia. Ed ora passiamo agli appuntamenti del nostro territorio. Questo weekend la storia dei motori sfilerà per le strade di Pesaro con l'automoto club storico italiano che ha scelto la capitale della cultura per ospitare il suo Asi Show. La convergenza fra Pesaro capitale della cultura e Pesaro terra di piloti e motori crea la naturale collocazione per portare in città l'Asi Show con tre giorni dedicati ad un secolo di storia dei motori organizzato dall'automoto club storico italiano. Dal 18 al 20 ottobre, tre giorni fra veicoli in mostra e approfondimenti presentati oggi dalla stessa Asi all'hotel Alexander. Noi siamo legatissimi nella città di Pesaro ormai da tantissimo tempo. Come sapete una collezione di nostra proprietà, la collezione Morbidelli, è conservata e tutelata qua a Pesaro. Quindi noi siamo felici di questo legame stretto con la città, stretto da un legame culturale perché per noi i veicoli storici sono cultura. In occasione di questa fantastica opportunità per Pesaro di essere capitale della cultura abbiamo voluto creare un evento in cui non solo visiteremo con quel turismo lento che è dedicato e per cui i veicoli storici sono particolarmente adatti. Quindi un turismo esperienziale che andrà a visitare le eccellenze di questo territorio anche una sfidata che verrà fatta domenica mattina in cui sfideranno la storia della locomozione del Novecento tanti veicoli che sono espressione diversa di quella che è stata un'eccellenza italiana dalle biciclette ai camion, autobus, mezzi di pronto soccorso, chiaramente auto, moto e quant'altro. Per cui sarà uno spettacolo che io spero è gradevole. Il vicepresidente della Commissione Europea, Joseph Borrell, sarà a Urbino martedì 22 ottobre per ricevere il dottorato onoris causa in Global Studies, Economy, Society and Law. La cerimonia si terrà alle 16 nell'Aula Magna del Rettorato e sarà seguita anche dalle telecamere di Rossini TV. Il 19 e 20 ottobre Urbania ospiterà la trentesima edizione della mostra micologica in concomitanza con la Fiera di San Luca. Si tratta di uno degli appuntamenti micologici più importanti delle marche che vedrà in mostra nel cortile del Palazzo Ducale oltre 250 specie di funghi raccolti dagli appassionati fungaioli di Urbania. Inaugura domani invece alle 17.30 Palazzo Corbelli di Fano la mostra impressionisti e grafica verso la modernità. Si tratta di un viaggio nell'arte grafica di fino ottocento che celebra i 150 anni dalla prima esposizione impressionista a Parigi nel 1874. L'esposizione, curata da Rodolfo Battistini e Luigi Benelli grazie al sostegno di Fondazione Carifano e Credita Agricola Italia include un centinaio di opere realizzate con la tecnica incisoria dell'acqua forte, litografia e acquatinta. Si tratta di opere che presentano uno spaccato della produzione artistica impressionista rivelando il lato più intimo e sperimentale di artisti come Renoir, Manet, Degas e Pissarò. La mostra sarà visibile fino al 2 febbraio. Spiroleca è ufficialmente il nuovo allenatore della VL. Questa sera negli studi di Insieme a Canestro qui a Rossini TV fornirà le sue prime dichiarazioni da neotecnico bianco-rosso. Un insediamento a Pesaro che arriva all'indomani della fragrosa sconfitta di Forlì. Ci sarà tanto da lavorare per Spiroleca in arrivo a Pesaro e sulla panchina di una VL che ha bisogno innanzitutto di una scossa di defibrillatore mentale ed emotivo dal tecnico di origine albanese e forse anche di essere rivista strutturalmente dal punto di vista dell'organico. Questo ha detto la mortificante sconfitta del mercoledì sera di Forlì in cui la Carpegna Prosciutto Basket affidata al coach protempore Giacomo Baioni ha segnato la miseria di 50 punti perdendo 71-50 al cospetto della Unieuro. Un meno 21 finale che ha sentenziato la seconda sconfitta consecutiva in una partita mai in discussione in cui si salva solo Ahmad capace di segnare 22 punti in mezzo ad una squadra che ha mostrato statistiche terrificanti. I parziali dicono 18-9, 38-24 e 49-38 ha il cospetto di una Forlì sempre in controllo che è andata a velocità doppia dei pesaresi e che dopo 5 partite si ritrovano con la miseria di 4 punti in classifica. A LECA il compito di rianimare un gruppo già dalla gara di domenica alla Vitri Frigo Arena contro Verona a pari punti in classifica. E allora mi raccomando questa sera seguiteci alle ore 21 in diretta avrete la possibilità di conoscere appunto il nuovo coach della VL e chiaramente di dibattere su questa scorsa partita che vedrete poi questa sera alle ore 22 e poi chiaramente della prossima che arriverà. Dal basket passiamo al calcio a 5 perché domani inizia la Serie A dell'Ital Service Pesaro quest'anno guidata dal coach Davide Barniesi. Domani alle 19 i biancorossi faranno visita alla Roma 1927. Dopo la trasferta capitolina l'Ital Service debuterà al Pala Megabox di Pesaro il 26 ottobre contro la L84 Torino. E siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale ma restate con noi questa sera perché la serata è dedicata allo sport ma prima, subito dopo questa prima edizione del telegiornale quindi intorno alle 20 andiamo a celebrare i 25 anni di attività di DV Automazioni SRL. E poi alle ore 21 in diretta dagli studi di Via degli Abeti la nostra Elisabetta e il nostro nuovo Alessio presentano appunto una nuova puntata di Insieme a Canestro. Gli ospiti di questa sera sono Spiroleca appena eletto nuovo allenatore della Carpegna Prosciutto ci sarà Nicola Dolci che è il vicepresidente della Carpegna Prosciutto e Mirko Faccenda che è giornalista. Vi aspettiamo commentata in diretta per vincere i biglietti per le prossime partite e non solo. E subito dopo la trasmissione intorno alle 22 potete vedere la partita Palacanestro-Forlì contro Carpegna Prosciutto-Basket Pesaro che si è disputata ieri sera. Domani invece la rassegna stampa torna puntuale alle 7.20 con il nostro Daniele Sacchi. E allora Rossini News si conclude qui ma vi ricordiamo di restare con noi perché subito dopo la pubblicità vedrete un nuovo trailer del 77esimo Festival GAD che si sta tenendo questi giorni a Pesaro. Come sapete tutti i trailer del GAD potete votarli sulla pagina Facebook GAD Amici della Prosa. Questa sera vedremo Duello, il gioco dell'assassino della compagnia filodrammatica orenese di Vimercate. Questo spettacolo lo potrete vedere al Teatro Rossini domenica 20 ottobre alle ore 21. Buona serata a tutti voi.